La mano del Zellino e il suo colle nella stesura della Divina Commedia lo sappiamo tutti, ma che avesse anche visto la nostra Contrara. Con il suo accesso in cui Caronte traghetta le anime al paradiso di Casa Parolin e vi invita ad entrare in uno spaccato di vita del tempo, veramente lo scopriamo ora. Ma cosa ci riserveranno i contraddaioli di Contraca Cornaro quest'anno? Buon divertimento 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 non è meglio e senti che profumo che c'è questo e di lì femmina cosa è salata? senti anche una scalogna e due panei si come al solito l'olio aggiosse l'aseo come se piovesse era piacioso cosa è basta non stai a confondermi che ho qua ospiti importanti a proposito Mario visto che seguo a tutti lo sai vero che poi arriva la parola a tutte le sospettanze e andiamo a controllare anche se c'è di spiegare la cucina e la stagia appunto perfetto ma stagia quanto voglio prendere? minima una settimana che voglio prendere? cosa voglio altro ancora dopo? non voglio niente la parola ha avuto la solita lista di ogni anno ha avuto 33 sacchi di formento un sacco di legumi 4 sacchi di sorgo un po' di mastei di vino 3 pari di pepoetta e 3 pari di capone 250 ombi e in primissima stai maniare a guaggia in primissima dell'orto e la campagna va a farola e dopo che non venga a mancare il solito un litro di latte da mettere sul boccanone della cucina ogni giorno lo abbiamo sempre fatto caro gente anche quest'anno che volerà subito i paloni cosa andrò a fare? non ciò fratelli? eh? e loro è venendo cosa hai detto? fratelli e sorelli no 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 sia fatta la volontà del signore eh? ma la parrocchia voglio fare qui? ah la parrocchia ah ah la parrocchia madre porta fuori a questo proprio piacere va queste qua rivedendo a questo e le qua eh la parrocchia ma era la parrocchia guarda la parrocchia ma no vediamo 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 주는 vasto così ah fortuna che noi mettiamo in cucina perché abbiamo stanghe di sali busetti e anche veggane e ora al posto da questo prendiamo il caldaccio con l'uposita eccolo pepino non guardar dentro non guardar dentro ma che bea putea 4 chi andrea andrea altro che sentimi va a confessare sante d'un tecchio saluto 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 Grazie a tutti! Buona giornata signora Parona, servono i vostri? Sì, servono i vostri! Sono qui per capire com'è andata quest'anno e per dirmi cosa fare con le disegneranze. Avete Parona, oggi è qua anche Castaldo, e io voglio guardare cosa che io devo partire. Ecco, volte che a sé non erano a guardare che ha finito. È questa l'educazione che i bambini hanno in questa casa? Ma no, Parona, a parte pazienza. I sessori contenti perché sei nata a puteia di Andrea. I sessori fare un po' di babolo. A parte pazienza, non succederà più. Ma vola qualcosa, vola qualche primizia. No, il vino va portato in campina dai guanti, tutto è messo in fila. E avete impiancato tutto, anche la staglia, come ho finato? Marco, consentite che voi avete la staglia signora, sia il compagno dentro o se vuoi? Però perché io favo una verta assoluta unica, perché sarai neanche disfattare un figlio mio e miei fratelli a struppare tutte le sfese con la boassa fresca. Cresca non sarà mai. E se vuoi il compagno dentro o che non è il problema? Vieni, 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 vieni. No, no, grazie, andate voi e stanno a tutti i nostri, io vado in villa. Assenta, parona, assenata, una bella pusea. Potremmo fare il dono di qualche primizia che vogliamo preparare a farea, cosa dice? Cosa dico? Dico, questa è una lamentabilità con la lava degli alberi. Ah, contami! Contami, contami, carte grosse, servero, fin! Certo. Certo che nella bella differenza fanno i signori e i nostri poareti. Se basta di fare il sabbatamento! I signori fanno peste, piscine peste e femmine poreste. E gli altri poareti, sempre pasta, fasoia e pasta. Ferra, femmine e basta! E' brava! Un grande amico ai nostri amici di Contrata Cornelaro. E' brava, tutti con amanti per salutare il pubblico, perché siamo veramente bravissimi. Tutti con amanti che salutiamo il nostro pubblico, grazie. Il nostro bimbo che è nato al piano di sopra, quindi mi raccomando, lo teniamo in alcuna. E naturalmente ringraziamo i signori di Parolin che ospitano il palio e la Contrada in questa splendida cornice. Ma soprattutto tutti i contraddaioli più esperti, diciamo così, che apportano la memoria storica. Soprattutto i nostri ragazzi che sono il nostro futuro della Contrada. Bravi ragazzi, complimenti, grazie!